Quindi la situazione della parte chirurgica della patologia della tiroide è un argomento estremamente importante che vede coinvolti tutti quei colleghi che si interessano al momento della chirurgia stessa della tiroide che possono essere i chirurghi generali, io credo che non la dico io, anche con quella categoria che ormai fa la parte del chirurgo testa con. La patologia è in crescita, quindi si impone che anche il chirurgo che si interessa nella tiroide non solo partecipi in maniera attiva al mitico dell'endocrinologo, del medico nucleare nella strategia diagnostica ma anche abbia la possibilità di un learning, una preparazione per la stessa chirurgia della tiroide che deve essere la più accurata possibile, proprio perché dietro a questa chirurgia che si sta sempre più diffondendo però ci sono anche delle problematiche di complicanze che possono essere estremamente importanti relativamente appunto agli danni che si possono fare sulle corde vocali o sui danni sulle ghiandole paratiroide relativamente alla calcemia. Questo impone un'attenzione sempre maggiore della parte chirurgica nel contribuire alla soluzione dei tumori della tiroide.